C'è sempre più gente, c'è sempre più persone che hanno voglia di fare, meravigliosi. La cosa più bella per noi è il Tandoc. Con Corsa Lunghi, un licefino, se stanno anche un italiano e un'animazione. Trepitoso e ogni anno migliore. La cosa più interessante del podcast animazione è il Doppio della Maratona, il primo lungometraggio a Milano. La cosa più bella per sé è che quest'anno siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di hostiti grandissimo. Abbiamo oggi nel tempo Avimo Gravi, Nicio Capostera, anche prima del film di Gondry, Titano, moltissimi hostiti internazionali. La cosa più bella del Milano Queen Festival è il Milano Queen Festival.